Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento dedicato all'informazione. Arrestato oggi dai carabinieri un imam quarantenne originario del Bangladesh con l'accusa di maltrattamenti verso ragazzini che frequentavano una scuola islamica a Pieve di Soligo in provincia di Treviso. Secondo quanto emerso dalle indagini l'uomo avrebbe picchiato in più occasioni con una bacchetta di legno gli alunni della scuola tra i 7 e i 9 anni. Già nelle scorse settimane i magistrati avevano emesso un provvedimento di divieto di dimora per l'uomo. Nella giornata di oggi i carabinieri della compagnia Vittorio Veneto hanno eseguito nei confronti dell'imam l'ordinanza di custodia cautelare eseguita ai domiciliari. Adesso dobbiamo parlare di un dramma, un incidente davvero terribile avvenuto nella notte. Sentite cosa è accaduto. Tragedia nel veneziano. Un uomo con la propria auto nel cuore della notte in via Fausta ad Eraclea è uscito di strada schiantandosi contro un albero. Un camionista assistito all'incidente si è fermato a soccorrere l'uomo. Sinceratosi delle condizioni di salute dell'automobilista, l'autista del camion addetto alla raccolta rifiuti ha deciso di ripartire, non accorgendosi però che la vittima dell'incidente era vicina al camion, investendolo in modo mortale. Ed è ceduto così un uomo di 35 anni del posto all'arrivo dei soccorsi. Il medico del 118 non ha potuto far altro che dichiarare la morte dell'automobilista. Nonostante l'arrivo del 118 ai vigili del fuoco è stato impossibile riuscire a salvarlo. Presenti i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per la ricostruzione della dinamica. Avete sentito un incidente davvero terribile e adesso andiamo a Mestre. Spaccero in allungo i binari arrestati dai poliziotti del commissariato. Protagonista di questa vicenda è un cittadino tunisino di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, gravato peraltro da precedenti per spaccio. Gli investigatori del commissariato, dopo indagini accurate, hanno scoperto un mercato dell'eroina in una zona appositamente studiata per favorire i controlli di polizia e in un luogo anche lontano da occhi indiscreti. Il trentenne aveva organizzato un sistema per il quale gli assuntori di stupefacente dovevano attendere lungo i binari della stazione e dopo essere stati contattati dallo spacciatore potevano seguire un binario indicato dove poi avrebbero trovato la dose di eroina. Gli agenti posizionati nei vari punti di osservazione per diversi giorni di appostamento hanno smascherato questo sistema e ricostruito i movimenti del presunto spacciatore che è stato arrestato. La Guardia di Finanza di Chioggia nell'ambito dell'attività di controllo in materia di codice al consumo e sicurezza dei prodotti ha sequestrato quasi 14.000 articoli irregolari pronti per la commercializzazione. Prodotti natalizi che erano esposti per la vendita in due negozi gestiti da imprenditori di nazionalità cinese a Chioggia e Cavarzere. La merce è risultata in parte priva delle etichette obbligatorie e in parte con etichettatura non conforme in quanto mancante delle indicazioni su provenienza e composizione della merce. Tra il materiale sequestrato, il cui valore ammonta a 40.000 euro, prodotti per la casa, ad obbi natalizi, comprese anche alcune luminarie LED privi del marchio CE. Dall'inizio dell'anno i finanzieri della compagnia di Chioggia hanno sottoposto a sequestro circa 53.000 prodotti non sicuri per un valore di oltre 140.000 euro. I responsabili in questo caso sono stati segnalati alla competente autorità giudiziaria per l'irrogazione delle sanzioni. E adesso invece parliamo dell'influenza in tutta Italia. I casi sono davvero tantissimi. In Veneto rispetto alle altre regioni sono ancora sotto il numero che sta girando per l'Italia ma comunque dall'inizio del viaggio di questo virus influenzale sono già 50.000 i Veneti a letto. L'influenza sta mettendo a letto migliaia di Veneti, sono oltre 50.000 le persone già colpite dal virus. In Veneto i casi sono inferiori rispetto alle altre regioni italiane dove i casi sono molti di più. Attualmente la fascia di popolazione più colpita dall'influenza è quella dei bambini da 0 a 4 anni. Il picco è previsto per la metà del mese di gennaio. Gli esperti affermano che c'è ancora tempo per potersi sottoporre al vaccino. Il personale del compartimento Polizia Ferroviaria Veneto anche quest'anno ha voluto portare gli auguri della Polizia Ferroviaria ai piccoli che frequentano l'associazione Casa Nazareth di Chirignago. Così tra un augurio e un panettone hanno incontrato bambini di varie età e con delicate problematiche. Ovviamente hanno parlato di sicurezza ferroviaria. Il compartimento Polfer per il Veneto tra l'altro organizza incontri anche presso molte scuole del Veneto con il progetto Train to Be Call avviato dalla Polizia Ferroviaria ancora nel 2014 con la collaborazione del MIUR e il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza ferroviaria. Incontri formativi che nel corso degli anni hanno fatto riscontrare un elevato indice di gradimento confermato dalle numerose richieste di collaborazione. E adesso vi raccontiamo una storia che arriva da Vicenza dove la polizia locale ha emesso 57 verbali per contravvenzioni stradali alla stessa conducente però non riusciva a notificargliele perché in casa non c'era mai. Sentite cosa è successo. Oltre 14.500 euro di multe per violazioni al codice della strada una cifra stratosferica è stata raggiunta da una donna della provincia di Vicenza. Si tratta di infrazioni collezionate nel centro del capoluogo berico in un arco temporale dal 2016 ad oggi. Alla donna però che ufficialmente risiedeva in un comune della provincia le multe non erano mai state notificate perché tutti i tentativi erano andati a vuoto. 57 i verbali in totale. Un agente della polizia locale si è intestardito volendo a tutti i costi trovare la conducente fino a quando ci è riuscito. Grazie ad un post su Facebook ha capito che si era trasferita in città e dopo alcune indagini è stata trovata a casa della madre. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro stamane ha vogato in Canal Grande da Cavendramin Calergi a Caffarsetti, sede del comune, accompagnato dal consigliere delegato alla tutela della tradizione Giovanni Giusto e dai gondolieri della città. Un gesto simbolico per ringraziare quanti hanno sostenuto il capoluogo lagunare durante la qualta di novembre. Reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di Finanza. Vi diamo tutti i dettagli nel servizio. Sulla Gazzetta Ufficiale numero 97 del 10 dicembre 2019 è stato pubblicato il concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo Guardia di Finanza per l'anno 2019. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che alla data del 1 gennaio 2019 non abbiano superato il giorno di compimento del 35esimo anno di età. Siano quindi nati in data non antecedente al 1 gennaio 1984 e siano in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale o titolo equipollente richiesto per la specialità per la quale concorrono. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 12 del 10 gennaio 2020. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo https.gdf.gov.it dove è possibile acquisire ulteriori e più completi informazioni di dettaglio seguendo le istruzioni del sistema automizzato. I concorrenti che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata, la PEC, dopo essersi registrati al portale potranno accedere tramite la propria area riservata al format di compilazione della domanda di partecipazione. Sono quasi 2 milioni i giovani tra i 18 e i 34 anni in condizioni di sofferenza ovvero a cui mancano due o più dimensioni del benessere dalla salute al lavoro, dalla sfera sociale a quella territoriale passando per l'istruzione. è quanto risulta dal rapporto Istat sul benessere eco e sostenibile quella che l'istituto chiama la multideprivazione è più alta si sottolinea tra i giovani adulti di 25-34 anni e nel mezzogiorno. Ed ora parliamo di clima tra questa notte e domani il tempo perturbato con precipitazioni estese persistenti sulle zone centro-settentrionali a tratti anche intense con quantitativi consistenti localmente sono previste precipitazioni abbondanti su prealpi e le aree limitrofe limite della neve intorno ai 1.400-1.700 metri sulle dolomiti 1.600-1.800 metri sulle prealpi Siamo arrivati al termine di questa edizione vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata arrivederci